la decorativa il ritmo del risparmio e trovo gente ma noi siamo felicissimi di portare qui sul palco abbiamo lo stesso parrucchiere abbiamo lo stesso parrucchiere io e lei salve benvenuta benvenuta grazie di essere venuta venga 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 come si chiama? Susanna Costantini molto bene Susanna anche lei va allo stesso parrucchiere abbiamo lo stesso parrucchiere questa è mia figlia ah è sua figlia? Costantini anche lei o Susanna anche lei? un nome diverso un nome diverso Silvia vuole cambiarlo è l'occasione per farlo eventualmente no? tenga quello mentre vedo un sacco di complimenti un sacco di signore ma siete tantissime questo è il mio gruppo sì? allora mi presento sono Susanna Costantini istruttrice di Zumba Fitness bene questo è il mio gruppo bellissime persone noi no si vede dalla forma fisica due no però possono ballare voi tutti potete ballare con noi che bello io insegno all'EM Fitness di Favaro alla Chubi Fit a Mestre in Via Carossa poi collaboro anche con l'Associazione Arcobaleno per rivalutare il Parco Bissuola vi aspetto tutti per lezioni estive bellissimo io mi piaccio quinta la Zumba cos'è? la Zumba è un'attività la Zumba sappiamo tutti insomma a cosa serve? serve a mantenersi in forma e si vede e si vede complimenti a divertirsi e soprattutto a stare assieme in gruppo che è lo scopo principale principale quindi lo scopo principale è rimanere in gruppo ma presentiamoli per bene le facciamo il lancio le serve il microfono immagino sì allora noi ci possiamo dare il tu? sì c'è no per sapere ha i capelli bianchi ma ok hai ragione hai ragione cosa ridi? torna lì torna lì torna lì credibile guarda c'è prego possiamo presentare Suzy's crew in Zumba Carnival Party ok partiamo buon divertimento e se volete ballare con noi grazie Zumba Grazie a tutti 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 Grazie a tutti